l'albana la spennellata con l'olio l'abbraccio ecco il preparato che si versa e la peppa che roba wow questa autentica stiamo assistendo alla magia l'abbraccio quanto tempo deve stare in cottura 2 o 3 minuti 2 o 3 minuti è fatta la vera schiaccina ilbana in particolare della meravigliosa rio marina ahi aspetta è magnifica wow senti che profumina grazie a tutti